Miei carissimi milanesi, Milano città d'acqua, diceva qualcuno, Leonardo la studiò anche, quindi insomma forse aveva anche ragione, non lo so perché poi ha da vederla bene, non sembrerebbe tanto una città d'acqua, ma c'è chi quella città la vive proprio con l'acqua. Sigla. Ed eccoci di nuovo qui quindi con miei carissimi milanesi, ho parlato di città d'acqua, di una persona che vive questa città con l'acqua, ho detto no, non è un penitente che non vuole fare aperitivi e beve solo acqua, ma anzi è colui che in città si muove spesso ventieri sull'acqua e quando non può con l'acqua si muove in altre maniere comunque sostenibili e dicono lente, poi in realtà insomma lui va anche come una furia. Simone Lunghi, buongiorno, benvenuto, buona serata. Buongiorno Milano News, buongiorno, buongiorno. Grazie di essere qui Simone, allora il carissimo milanese di oggi appunto è Simone Lunghi, che pensate ha una pagina anche su Wikimilano abbiamo scoperto. Ah sì. Ha una pagina su Wikimilano. In questa pagina dicono però di te, che hai lavorato e vissuto negli Stati Uniti, giusto? Sì. Ok, e hai lavorato per una delle 14 famiglie più ricche degli Stati Uniti d'America. Ah sì. Chi sono? Voglio sapere chi sono questi ricchi? Sono la famiglia Marshall. Quelli degli amplificatori? No, quelli del petrolio, fa molto più soldi. Non so se ti ricordi un mito per chi ha avuto 90 anni, probabilmente è diventato anche cieco, Annie Cole Smith, una playmate di 27 anni che sposò un magnate di 94 anni. Era lo zio povero lui di quella famiglia. Ah, ecco, chiaro. Hai mai incontrato mal Nicole Smith? No, perché era stata rietta dopo che era riuscita a avere in eredità 1500 miliardi di dollari. Ok, non c'erano zie povere da sposare e rimanere lì? No, io lavoravo per la moglie divorziata di questa famiglia, che chiaramente stava molto bene economicamente, aveva un figlio, sono diventati amici, è venuto anche ospite a casa mia col terrore che l'anonima sequestri sapesse e quanti miliardi di dollari dormivano nel letto di mio fratello. E no, è stato un momento divertente a mia vita e devo dire che, vabbè, ho conosciuto un'America molto bella, chiaramente, si può dire tutto il contrario di tutto dell'America. Io, la fortuna che ho avuto era di avere a che fare con persone che stavano chiaramente molto bene economicamente, ma questa loro ricchezza si era tradotta anche in una serie di interessi particolari, una cultura di un certo tipo, per cui sono stato davvero bene, oltre ad aver conosciuto... Quindi ben ricordo di quel periodo. Persone, sì, sì, sì. Tu nasci a Vigevano? Passi attraverso gli Stati Uniti a un certo punto? Sì, Toscana e gli Stati Uniti. In realtà la testa di Ponte fu la Toscana. Ah, vedi, ecco. E poi a Prodi a Milano, no? Sì. Vigevano a Milano, quindi risalendo il Ticino e poi il Naviglio. Sì, allora io ho iniziato a lavorare a Milano, credo all'inizio del 2000, e poi a un certo punto, oltre al lavoro, ho conosciuto quello che poi sarebbe diventata mia moglie. Io mi ricordo che però, ero già strano, forse ancora più strano, io mi ricordo che quando... E forse è quello che l'ha fatto innamorare di te. Sì, però questa cosa qua non l'ho mai rivelata pubblicamente. Oh, attenzione. Io ho fatto un po' di viaggi, avevo una macchina allora, e ho fatto dei viaggi andati a ritorno, con le cose, piano piano, abbiamo iniziato a vivere insieme. E poi a un certo punto c'è stato il viaggio definitivo, diciamo, ma anche se in realtà l'avevo già portato tutto quello che dovevo portare, non neanche tantissimo. E mi ricordo che quel viaggio lo feci decidendo di andare via da Vigevano in autostop. Cioè io l'ultima volta che sono andato a Vigevano, ho preso l'ultimo zainata di roba, e poi mi sono messo a fare l'autostop, perché volevo andare via, forse già in modalità ecologica allora. E quindi niente, fu una cosa abbastanza divertente, questa idea di lasciare la città, come nei film americani, quando vedi l'eroe che se ne va via dalla città in autostop, un po' reietto, forse ho voluto fare una roba del genere. Beh sì, effettivamente non è una cosa che fanno tutti, andare via per l'ultima volta dalla propria città. Com'era a vivere a Vigevano negli anni? Allora, sì, la mia vita in realtà a Vigevano è stata anni 90, perché ho fatto 18 anni nell'89. Quindi si ascoltava Max Pezzali? No, non ascoltavo Max Pezzali, io non ho mai ascoltato musica italiana. Dici come se fosse un litto? No, perché poi mia moglie lavorava all'interno della musica italiana, per cui essendo uno che confonde una canzone dei Pugh con quella dei Battisti, è stato un po' difficile. Capiamo perché ha sofferto questa donna anche. Esatto. No, Vigevano, ma a differenza di Milano, poi era anche un'altra società, voglio dire, non c'erano i social, per esempio, e poi proprio per questo era molto difficile andare fuori dal mainstream. Cioè, o giocavi a calcio, o giocavi a basket e già non andava proprio bene, se giocavi a pallavolo eri proprio strano, io facevo canoa. Eh, infatti, tu non giocavi a niente di tutto questo, tu giocavi, o meglio, ti facevi il mazzo, con la canoa ti divertivi, immagino anche. Come nasce questa passione per la canoa proprio? Ma nasce perché, vabbè, a Vigevano c'è il Ticino. Ricordiamo la differenza che c'è la canoa e il canottaggio, sono cose diverse, giusto? Allora sì, allora bravo, quattro parole per capire la differenza, amici che ci seguite da casa. Canoa, pagaia, canottaggio, remo. Adesso vi sembra di aver capito, però voi non sapete la differenza tra remo e pagaia, quindi vi devo aggiungere qualche cosa. La pagaia è uno strumento che applica la forza in maniera diretta, diciamo è più primordiale, mentre invece il remo applica la forza in acqua tramite un gioco di leve, quindi con un punto fisso, quindi anche il pattino del bagnino a rimini, è una barca a rimini. La pagaia invece applica la forza in maniera diretta, gestisci direttamente, può essere foglia singola o foglio doppio. Toro seduto, quella roba lì. Toro seduto, sì, va con la pagaia a foglia singola, come tutti, diciamo che il mondo ha avuto questa evoluzione, pagaia, cavalcioni su un tronco, facendo i primi sap, diciamo. Esatto, iniziano a spingersi, poi piano piano quando c'è più acqua si spingono sul fondo, poi quando l'acqua è troppa iniziano a sagomare una foglia e fanno la pagaia, scoprono le leve, il remo prende il posto della pagaia, tutti i popoli scoprono il barca a remi, essenzialmente dai fenici, romani, greci, cinesi, vichinghi, anche nel Sud America hanno la barca a remi, un popolo invece non percorre questo sviluppo tecnologico e inventa la pagaia a doppia foglia, cioè mette la foglia su un lato a destra, il lato a sinistro del manico. Sono gli eschimesi, perché il vantaggio del remo è se tu hai il punto fisso, se hai una leva lunga, fin quando hai la leva corta non ti serve a niente avere questo, c'è uno stuzzicadente che lo punti, non fai molta forza. Se il remo diventa lungo tre metri diventa interessante. Gli indiani, i rocchesi, che li chiamiamo eschimesi, anche se loro si arrabbiano, gli inuit non hanno a disposizione gli alberi perché c'è solo ghiaccio e quindi fanno le cose con le ossa di balena e il femore della balena, scherzo però l'osso più lungo della balena, probabilmente quello della cassa toracica, è lungo circa due metri, quindi con quello si inventano la pagaia a doppia foglia che lasciano usare solamente agli uomini che vanno a caccia pesca. Kayak vuol dire da uomo. L'umiak era la canoa con la pagaia foglia singola che era destinata alle donne. Se noi andiamo in Esquimolandia e dobbiamo andare a tagliarci i cappelli dobbiamo andare da uno che c'è il sito kayak, non di umiak. Quindi se andate da quelle parti e leggete kayak, sapete che magari anche sui bagni non è il bagno per gli uomini e non vi stanno invitando ad andare su un fiume a pagaiare. Non è quello. Dagli Inuit a Milano, però la strada è lunga, com'è vivere in Milano, cioè coniugare la città di Milano con questa passione per la canoa? Ci hai messo un po' a immagine. Allora io ci ho messo tantissimo in realtà. Io quando sono arrivato a Milano ho simulato una follia da ventesimo secolo come tutti, quindi avevo la macchina, ho fatto dei figli, la casa in centro addirittura. Sono contenti i figli di sapere che fanno parte della follia. Simone Lunghi con la casa in centro, con la macchina. Avevo il mio lavoro normale, lavoravo per la Federazione Italiana a nuoto, poi collaboravo con delle palestre, ero responsabile di un po' di palestre. Poi a un certo punto ho riabbracciato la canoa sui navigli e da lì ho visto che si poteva fare e che mentre negli anni 90 vigevano quello che faceva a canoa era guardato un po' come quello strano, qui invece si è creata una situazione tale che il fatto di andare in canoa e poi di iniziare a muovermi anche solo in bici, cioè già nel 2012 muoversi in bici non era così diffuso come adesso, poi muoversi in pattini, quindi c'erano i miei vicini di casa, una volta mi ricordo un vicino mi fermò dicendo ma tu dove stai andando in pattini adesso? Io ho detto ma sto andando a lavorare, ma dove lavori? E' sui navigli, ma che lavoro fai? Adesso vado in canoa, è il mio lavoro. E questo mi ha guardato e dice ma non siamo in Florida qua. I pattini lo usa mia figlia la domenica per andare al parco. Sì, oppure John John Kennedy, John John Kennedy vi è figo se lo faceva a New York, poverino, faccia l'anima sua, e invece qua se vai in giro in pattini o in bicicletta, anche Salvini ha detto che in bicicletta non hanno un lavoro praticamente. Ah ok, questa me l'ho persa. Sì, la Della ha fatto un comunicato dicendo insomma che fateci lavorare. Dicevo prima, Milano città d'acqua, si dice questo. Sembra sempre di più, però invece Milano città d'auto, perché effettivamente lo spazio viene sempre occupato da loro. Cambierà mai qualcosa o siamo destinati a questo racconto? Allora, non siamo destinati a questo racconto perché in realtà tutti sappiamo che le cose non possono andare avanti così e questa è una cosa che il resto del mondo che ha vissuto gli anni 90 in maniera diversa da come li abbiamo vissuti noi per tutta una serie di cose politiche e quindi le cose sono cambiate. Noi siamo rimasti fermi più o meno come mentalità al 93-94 diciamo però appunto siamo convinti che non si possa andare avanti così che la soluzione non è sicuramente quella di allargare le strade per far arrivare più auto perché comunque le devi posteggiare e comunque delle strade strette che creano un collo di bottiglia quindi voglio dire negli anni 70 le foto del traffico del ponte Aghisolfa sono incredibili esattamente come adesso Buenos Aires era tutto fermo senza le ciclabili quindi non è una questione di quel tipo purtroppo in Italia c'è anche una convinzione che qui in Italia le cose non cambieranno mai e queste due cose molto lentamente stanno andando avanti ma Milano ha una sola chance per rimanere collegata all'Europa cioè fare quello che hanno fatto tutte le altre città in Europa io in un collegamento con voi credo durante uno delle tanti proteggimi che abbiamo fatto come mobilità sostenibile dissi che con tutto il rispetto per gli abitanti di Nuova Delhi o del Cairo io preferisco puntare alla mobilità che c'è a Oslo, a Berlino o a Parigi o a Londra rispetto a quelle città è pronto di proteggimi il tema della protezione e anzi del chiedere basta vittime sulla strada è un tema molto caldo a Milano negli ultimi periodi ogni giorno ahimè leggiamo di situazioni ieri sera ancora una signora sulle strisce ecco appunto non solo ciclisti non solo ciclista in mezzo alla strada anche il pedone sulle strisce cioè sembra che ormai non c'è più sicurezza da nessuna parte sì la signora di ieri sera sulle strisce tutto se possiamo dare una genesi o meglio se forse la genesi della coscienza che qualcosa doveva cambiare nasce nel 2011 sicuramente avrei seguito mi ricordo che abbiamo fatto spesso vittori di Giacomo Giacomo Scalmani 12 anni investito dal tram perché non c'era lo spazio per via delle auto postaggianti in seconda fila e una portiera che si apre a un certo punto anzi stiamo vedendo appunto anche il giornale proprio di quell'epoca tra l'altro io lo conoscevo perché veniva a fare le appunto come federazione nuoto lui mi sembra andasse a nuotare alla Solari e nelle manifestazioni che facevamo per Milano Sport c'era veniva possibile che da quel giorno sono passati tantissimi anni per esempio appunto era il 6 novembre del 2011 non è cambiato nulla non è cambiato nulla nella sostanza nel senso che appunto facciamo le ciclabili facciamo le zone 30 facciamo le giornate della bicicletta ma poi e poi è tutto molto complesso c'è anche stato l'annuncio a inizio il 2023 era partito benissimo con l'annuncio sulla città 30 e sono passati 11 mesi e la città 30 non se n'è parlato se adesso cioè se n'è parlato ma di fatto nella realtà concreta si è visto poco o nulla purtroppo nel contempo si è visto da parte di di chi ha organizzato proteggimi ma non solo poi c'è tutto un movimento che ha fatto le piazze aperte le strade scolastiche che sta chiedendo queste cose dove si dà spazio alle persone cioè è molto facile le città si sono sviluppate essenzialmente sui fiumi tornando al discorso iniziale le civiltà e le città si sono sviluppate sui fiumi aggregando persone a un certo punto per tutte una serie di motivazioni è stato dato sempre più spazio alle auto fin quando le persone sono state quasi rese reiette e le strade hanno avuto semplicemente la funzione di far spostare delle auto tra l'altro con questa assurdità le auto sono sempre più veloci sono sempre più acceleranti sempre più larghe sempre più portatrici di possibili disattenzione per il cellulare per i social per il navigatore l'autoradio sempre più isolate dal resto del mondo che sono dei gusci che ti isolano dal punto di vista climatico dal punto di vista della stessa aria perché tu in macchina metti il filtro per non avere la puzza della macchina che hai davanti e la metti fuori sonoro anche ormai non senti più niente quando sei chiuso in un'auto quindi hai l'aria condizionata il finestrino è tappato e sigillato per cui sei alieno alla città la mobilità cosiddetta sostenibile a me piace chiamarla mobilità attiva invece perché se tu ti sposti perché se tu ti sposti in auto ti sposti in tram non è vero non devi dire io mi sono spostato in auto mi ha spostato l'auto sono stato spostato dal tram se tu ti muovi in bici non hai nessun nessuna membrana che ti separa dal resto sei attivo percepisci ogni rumore ogni odore o dovresti percepire ogni rumore perché poi c'è il problema delle cuffiette adesso quelle anti rumore e questo fa sì che tu vivi completamente la realtà sei anche portato perché in quel momento sei attivo per cui tra l'altro la mobilità attiva è quella che è più facile scusate gioco di parole attivare per fare alcune cose che sia semplicemente perché si accorge il singolo ciclista che lì è stato buttato delle cose dell'immondizia e quindi magari uno su duecento che passano interviene la raccoglie la butta nell'altro o nell'altro spazio o che percepisce il grido di una donna in difficoltà la regia ci ha anticipato una cosa che ve l'ho fatti vedere una foto che ve l'ho fatti vedere fatemi vedere la foto grazie Angelo eccola qua allora sai di cosa stiamo parlando giusto se sorride anche te non è male non è niente a dire perché poi il problema è questo il tema è serissimo il tema delle ciclabili è importantissimo poi però si scade subito nel ridicolo dalla parte subito di chi comincia a commentare a fare si fa ironia su una cosa che invece potrebbe essere magari una soluzione non so volo alto volo alto allora Obama ha fatto una dichiarazione nei giorni scorsi sulla città di Montforte esatto sull'utilizzo dei social e sull'essere attivi schierandosi una parte dall'altra chiedendo che invece l'unico modo per poter essere attivi è scendere ad accettare il fatto che ci sia una complessità del problema e questo Obama chiaramente non parlava di ciclavia di Montforte parlava di quello che sta succedendo in Israele però sono mille altre le possibilità dove si polarizza credo che nel caso dell'incrocio di Montforte ci siano un po' di cose da dire la prima è che quando si guarda quella fotografia lì sono stati chiaramente dei servizi giornalistici con il solo intento di buttare benzina sul fuoco perché se tu intitoli che quella è la ciclabile rompicapo il Tetris l'incrocio Tetris l'incrocio Tetris è una cosa abbastanza ridicola anche perché io non so Tetris non ci penso minimamente a me quella ciclabile vista dall'alto sembra esattamente la riproduzione nella realtà degli incroci che vedevo sul manuale della patente cioè sul manuale della patente perfetto nel mondo perfetto c'è un incrocio così senza la striscia che attraversa che non mi sembra più di una difficoltà così mostruosa capire che è riservata le biciclette che devono girare io ho visto un giornalista quello di Sky mi piacerebbe fare il nome non lo faccio solo perché non me lo ricordo che è riuscito a inquadrare che prima dell'incrocio arrivando dal centro cioè freccia a destra freccia a sinistra chiaramente a sinistra devi andare non girando a 90 gradi ma seguendo la striscia ma seguendo la striscia lui dice cosa devo fare devo andare contro mano nell'altra cosa adesso qualunque senso unico c'è una freccia verso l'alto se vuoi facciamo un servizio devo andare a trovare Dio mi chiedo l'intelligenza delle persone se non hai il problema e poi tu butti questo nel calderone e non si riesce c'è da dire che però anche dall'altra parte non è che spengono molto la benzina perché poi il consiglio di Mazzei che tu conosci bene l'abbiamo seguito in quei giorni su Facebook facciamo vedere cosa ha pubblicato Mazzei in quei giorni mazzei non mi deludere allora il primo giorno ha detto gente che guida in città e che non capisce l'incrocio di Corso Monforte poi ci chiediamo perché succedono gli incidenti se non siete capaci usate i mezzi per favore beh gentile però nel senso però ha detto una verità voglio dire sono assolutamente d'accordo la fabile Mazzei dove ripeto tutte le problematiche poi sono state dette siamo davvero così poco svegli per tre giorni no ma che per tre giorni per una settimana abbiamo parlato solo di quello il 10 poi ti faccio aspetta perché il 10 continua a buttare benzina sul fuoco Mazzei fa vedere una foto vediamo la foto che mi ha detto l'incrocio di Berlino e dice un incrocio di Berlino punto e invece chissà se anche in Germania ci sono automobilisti che non lo capiscono forze politiche che lo diridono giornali che inseguono i peggiori social tram che deragliano beh tram che deragliano non l'ho capito però è divertente quando uno prende una licenza comica non poetica ci può stare io comunque nel mio piccolo avevo scritto qualcosa tipo se vi sembra così assurdo vi prego non andate all'estero a guidare ok credo di aver detto la stessa cosa adesso poi c'è chi ha più vis polemica o verve comica ma in questo devo dire non me l'aspettavo ti consiglio di seguirlo no no ma lo seguo l'ultima che ha fatto anche l'algoritmo ma sai poi lo inviteremo perché lo stiamo seguendo con attenzione l'ultima ha messo in taglio dei biglietti in una partita lui fa sempre questa cosa qua e l'ha chiamata però è stato interessante perché lui che è l'eleterista ha chiamato ha dato i biglietti per una squadra minore di Milano quindi sotto ovviamente si è scatenato evidentemente si sorride quindi me lo maci ci sta ci sta interessante però che il tema appunto viene fuori dai post di Mazzei da quello che ci dici tu è che non è tanto il problema dell'incrocio quanto ma neanche il fatto che sappiamo no andare in macchina mi viene da dire quanto il racconto che c'entrano a questo tema come dicevi tu appunto anche Obama ha detto Monfort ha detto comunque di non continuare a cercare la divisione ma cercare appunto un punto di contatto ma soprattutto di cultura mi viene da dire cioè veramente dovremmo forse tornare a riguardare il libro della patente per capire i disegni che ci sono su ripeto quello mi sembra davvero cioè andando in giro per la città ma non per Milano in generale in Italia io non ho mai visto un posto un incrocio che fosse più simile alla rappresentazione grafica perfetta su un quiz da patente non l'ho mai trovato in nessun porto come in Monforte quindi mi sembra davvero strano voler fare questa polemica probabilmente io ci pensavo l'altro giorno questo astio che c'è nei confronti delle piste ciclabili al di là dell'incrocio lì è determinato al fatto che le auto vorrebbero girare dovunque e vorrebbero che Corso Monforte fosse a doppia corsia ok e Corso Monforte non può essere a doppia corsia siamo d'accordo indipendentemente dal fatto di ti sembra possibile neanche quelle Fiat 500 di un tempo sembra un po' complicato effettivamente benissimo il motivo per cui vogliono una doppia corsia non per andare in doppia corsia ma è per posteggiare dove non puoi posteggiare ma tu dici che è questo beh certo io non ho mai sentito un problema del restringimento da doppia corsia a corsia singola in Corso Vercelli però sono tutti su una corsia le auto in Corso Vercelli perché ci sono tutte le auto posteggiate in doppia fila la cosa interessante da Simone appunto è che queste cose che dici e queste frecciatine che mandi ma neanche poi così levatamente ma in realtà no queste realtà che tu porti oggettivamente a far conoscere alle persone sono anche supportate dal tuo modo comunque di vivere tu sei venuto qua in studio possiamo vederlo l'abbiamo messa qui in studio con noi la tua fedele compagna una bicicletta pieghevole possiamo anche dire la Brompton la Brompton lo diciamo anche perché sono quelli forse che hanno inventato questa roba qua la Brompton se vuoi ti racconto la storia che è bellissima brevissimamente il signor Brompton negli anni settanta in piena crisi petrolifera austerity a Londra andò dalle banche per farsi finanziare questa sua idea che è geniale perché mentre le bicicletta pieghevoli che conosciamo noi la Graziella si piega in due la Brompton si piega in tre quindi diventa grossa come un trolley ha le ruotine sotto lui va alle banche che chiede finanziamento non c'è una banca che gli dà il finanziamento lui adesso ha talmente la Brompton è talmente un impero che la leggenda dice che un principe faccio confusione inglese non so se eduardo o l'altro è andato a chiedere la bicicletta e ha detto si guarda sono duemila sterline ma io sono anche duemila e cinque ma noi lo faccio a testimoni noi per cose non facciamo e la leggenda dice che nell'ufficio del signor Brompton ci siano 47 quadri appesi e sono 47 lettere di rifiuto delle banche però insomma ecco come diceva invece un famoso film si può fare allora si può fare e non sai neanche Frankenstein cioè si può si può assolutamente fare io allora quando ho detto che simulavo la follia una delle cose delle follie era che io quando andavo in macchina a Milano fino a quando non hanno inventato l'Ecopass io abitando in centro a un certo punto hanno messo l'Ecopass dal primo gennaio del 2012 e o 2013 non so bene e scoprì che praticamente potevo passare 40 volte gratis e poi dovevo pagare secondo me mi giravano un po' le scatole a dover pagare e l'idea che io riuscissi a contare i passaggi era impossibile ho detto beh la macchina non la uso più la uso solamente eventualmente quando proprio cioè solo quando ne ho bisogno e in maniera tale tagliamo la testa al toro ho iniziato ad andare in giro in bicicletta pensando che Milano fosse troppo pericoloso per andare in giro in bicicletta che Milano fosse una città orribile e non mi piaceva neanche il mio lavoro quello che facevo allora quando ho iniziato a girare in bicicletta ho scoperto che Milano è una città molto più bella di quello che pensassi il lavoro è iniziato a piacermi di più perché non mi arrabbia dovevo girare tra tutte le piscine quindi era sempre un problema posteggiare l'auto traffico bloccato ci si incattivisce e invece con la bici arrivavo molto più sereno piano piano ho una discreta parlantina ho iniziato anche a conoscere le persone in bicicletta perché al semaforo magari succede qualcosa fai la battuta qualcuno lo incroci sempre sulla ciclabile a doppio senso e inizi a salutarti ad un certo punto gli offri il caffè e poi si diventa amici ho scoperto che c'era tutta una comunità io ho imparato il senso di comunità grazie alla bicicletta e alla critica al mass quelli brutti cattivi in realtà abbiamo fatto anche delle cose bellissime critical mass tu eri quello famoso da me che giro sui pattini la critical mass sì beh c'è gente più famosa di me che giro sui pattini in critical mass però noi avevamo fatto a un certo punto la critical mass eterna diciamo tutti i giorni non solo al giovedì e a un certo punto avevamo fatto la prima volta poi l'abbiamo fatto molte altre volte eravamo andati a portare nel silenzio dei dolci ai senza tetto nella notte della Befana non so se è ancora così ma la critical mass di Milano è una delle poche critical mass settimanali l'unica critical mass infatti al mondo credo nasce a San Francisco ma sono a San Francisco ci siete ancora ma è mensile sì sì sono tantissime critical mass e sono sempre l'ultimo venerdì del mese da format diciamo invece Milano tutti i giovedì Milano tutti i giovedì alle 11 alle 10 di sera diciamo a seconda ogni tanto era le 9 e mezza adesso credo sia intorno ai 10 la partenza e in quasi tutte in molte città italiane c'è la critical mass Firenze Livorno Roma ed è all'ultimo venerdì del mese come da e lo fanno scusami alla sera presto cioè intorno alle 7 ok mentre invece perché la critical mass nasce da questo cioè era un signore che dopo il lavoro decide di non essere da sole cerca altri ciclisti non c'erano i social perché era il 91 e roba del genere e lui mette dei posti dicendo chi vuole fare questa strada tutti insieme all'ultimo venerdì io parto alle 7 da qua e quindi sono trovate 10 persone e piano piano sono diventate sempre di più mondiale appunto quella di San Francisco è famosissima San Francisco è una città molto più difficile da fare invece che rispetto a Milano Milano è perfetto poi vi prego so che magari però Milano quando dite Milano non è Amsterdam almeno studiate perché Amsterdam era una città che non aveva più i canali li aveva seppelliti come li hanno seppelliti gran parte la Milano città d'acqua e aveva un problema di traffico mostruoso negli anni 70 morivano i bambini in strada i genitori sono a un certo punto arrabbiati parecchio con le scuole elementari hanno fatto tutti i lavori e alla fine è stato deciso questa cosa e primi al mondo hanno fatto vedere che si può fare che hanno ridato bellezza hanno ridato lo spazio alle persone mi sembra che il PIL dell'Olanda e di Amsterdam non sia malissimo neanche quelli di Copenhagen neanche quelli di Londra di Parigi di Berlino non è che tutti i ciclisti sono come me che non hanno un lavoro voglio fare la maglietta vado in bici ma ho un lavoro infatti hai parlato appunto Milano Stati Uniti vigevano Milano tanto però quante Milano hai visto finora? quante Milano ho visto? beh allora ho visto la Milano da bere non l'ho vista ho visto la Milano ho visto una trasformazione credo due essenzialmente ho visto la Milano postuma del da bere dove comunque c'era ancora facilità di lavoro di una certa ricchezza prima di Airbnb diciamo e poi non sono giorni dopo parlare di Airbnb mi sono giocato un mio sponsor di questi giorni direi che non andavo più dicevo una Milano dove la gente si faceva un cuore così per lavorare a Milano per mettere per avere i soldi e poi nel fine settimana andare via andare fuori da Milano e poi invece i soldi hanno iniziato ad essere un po' di meno e quindi la gente ha iniziato a dire beh ma posso anche farmi un po' meno mazzo magari mi faccio sempre il mazzo però alla fine sabato e domenica rimango qua e quindi cosa faccio e allora ha iniziato a scoprire che si potevano fare cose belle in città e che c'erano spazi che potevano essere resi ancora più belli e quindi poi è arrivato tutta tutta una serie di cose ad arsena penso grazie a Expo che è stato fondamentale in questo processo e piano piano è stato il punto più alto Expo secondo te o stiamo ancora salendo adesso? non credo che stiamo salendo perché da una cosa che è partita molto tempo fa secondo me era una cosa che pensavo al mattino quando portavo i miei figli a scuola e dicevo io esco al mattino e questi vedono tutte le macchine prosteggiate in doppia fila sui marciapiedi sulle strisce pedonali vedo quello che vende i fiori in Porta Romana con il suo ape piaggio c'è una famiglia intera che gira adesso che posteggia dove non può posteggiare dove l'illegalità anche degli incassi immagino però magari mi sbaglio quindi non diciamo niente su questo però e quindi insomma non è possibile che si possa fare quello che si vuole è una cosa che era nata già nel 2008 mio figlio è nato nel 2004 quindi quando lo portavo all'asilo sembra quasi strano detto lo spirito libero come te eh ma lo spirito libero non attenti non so come dire ho capito ma lo spirito libero io sono per la comunità nella comunità tu per forza di cosa fin quando vivi da solo puoi fare quello che vuoi e quando inizi a essere con delle altre persone devi pensare anche ai rapporti e anche ai rapporti che hai con il resto del con l'ambiente io non sono cioè secondo me Milano quando all'est cioè non all'est quando da fuori magari qualcuno diceva Milano sembra una città sporca Milano è una città meravigliosa anche dal punto di vista ecologico e tutte le persone che vivono a Milano dovrebbero essere orgogliose di come metropolitana milanese immagino l'acquedotto trattino le acque reflue noi siamo i numeri uno in Europa per quello che facciamo a Nosedo e San Rocco noi ridiamo l'acqua che fuoriesce dai dalle fognature diciamo dal depuratore viene ridata e viene riutilizzata perché riesce a sorpassare i parametri per essere utilizzata come acqua agricola e deve passare dei parametri vi assicuro molto più restringenti rispetto a prendere l'acqua di un normale fosso cioè l'acqua di un normale fosso può essere inquinata a questo livello l'acqua che arriva dai filtri del nostro WC deve essere chiaramente ipercontrollata quindi può essere inquinata solo a questo livello e noi passiamo abbondantemente questo e tra l'altro c'è un ricalco di quello che era la Milano medievale con i navigli e la Milano romana addirittura perché la Milano romana i romani cosa fanno per difendere Milano devono due fiumi cioè erano gente in gamba e seria contrariamente a quanto dica Galimberti che solo i greci sono gente seria che sa morire anche i romani hanno proprio dei pistolini deviano l'olona e il seveso fanno il fossato diciamo difensivo e che usano anche come fognature dopodiché quell'acqua viene portata via da quella che è la Vettabbia che si chiama Vettabbia perché è Vectabilis si può portare cose sopra lì perché poi arriva l'Ambro al Po e quindi i marmi con cui fanno non so l'arena l'anfiteatro diciamo i romani arrivano risalendo Po e poi l'Ambro e tutto l'arena non è l'arena civica perché ci sta ascoltando l'arena romana che c'era dietro la borsa quello che adesso sono i basamenti di San Lorenzo diciamo tutta la parte sotto è tutto marmo ammonticchiato non c'è più niente di quel colosseo che c'era lì diciamo l'anfiteatro non c'è più e poi dopo nel Medioevo quando la città si allarga rifanno un fossato esterno e poi con i navigli e poi arriva l'acqua prende il 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 Ticinello e l'acqua riscende verso sud la Vettabbia scende anche verso sud e e con il fatto che la Vettabbia è ricca di diciamo di fertilizzante diciamo così i campi della zona sud di Chiaravalle sono particolarmente infatti sono quelli che ancora tengono infatti tra tutto l'acqua di identificazione quelli ancora un po' tengono ma hanno tenuto più che altro la partenza è stata che i monaci di lì inventano il formaggio grana grazie grazie alla sovrapproduzione di latte che avevano per le marcite Milano sembra quindi la città più bella che ci sia al mondo a questo punto Milano è non so se sia la più bella ma Milano ha il vantaggio e forse anche svantaggio perché siamo un po' provincialotti non so Monforte lo fa capire Milano è la più piccola metropoli del mondo a Milano c'è tutto è una città che se la gioca in termini di fama con Seul con Parigi con Tocchio che fa 30 milioni di abitanti noi siamo uno sputato noi siamo 3 milioni che tirano dentro anche la provincia esatto esatto e c'è tutto a Milano tu vuoi fare un corso di chebana vuoi fare il corso di scacchi campioni italiani di scacchi vuoi fare il corso di tango c'è 27 attività diverse di tango se non c'è te lo puoi inventare e farlo a Milano se tu sei così folle che dice a me piacerebbe pattinare di notte in giro per Milano vengono delle persone il polo in bicicletta puoi fare tutto a Milano perché è una città pulsante viva e questo grazie a Naviglio diciamo torniamo tutta la storia ruota intorno a Naviglio il successo di Milano l'Amazon di una volta il Naviglio è stato il biglietto vincente di Milano nella lotteria nei vari secoli all'inizio per tentare di difendersi da Pavia cioè Milano doveva difendersi da Pavia nel 1200 per il discorso agricolo dal 1300 per il discorso economico commerciale talmente che a un certo punto diventa ricca che decidono di costruire il Duomo e di farlo in muratura dopodiché prosegue col prestigio di Milano la flotta ducale milanese sconfigge la flotta veneta a corte maggiore sul Po per accaparrarsi il predominio sul Po con i Veneti inventando il Gran Pavese tra l'altro che nasce la principale manovra che fanno tutte le marine militari in tutto il mondo sui sette mari nasce sul Po per la flotta ducale che è la distanza a Pavia che affonda quasi 90 barche della flotta veneta e Pacini prende le giubbe dei comandanti i comandanti no prende le giubbe e quando rientra a Venezia fa appendere tutte le giubbe delle 90 sulla sua barca sui pennoni sugli alberi e quindi lì nasce la manovra del Gran Pavese che vedete non so la più famosa quella da Vespucci cioè Milano è questa cosa qua cosa manca Milano quindi non manca nulla Milano sono solo troppe auto ok c'è troppo anzi non manca niente c'è troppo less is more perché ragazzi poi le auto ci separano ma chiaro diciamo che abbiamo capito la tua sulle auto ci vogliono le persone nei posti non le auto torniamo invece a te Simone il tuo più grande successo quale è stato secondo te? il più grande successo di Simone Lunghi è essere intervistato qua sì va bene dai l'amborgino d'oro 2021 no oppure c'è qualcos'altro oppure qualcosa di più piccolo che però per te è il più grande successo? allora io penso che il successo più grande sia le ragazze che porto fuori malate cioè insomma pazienti oncologiche raccontaci un attimo questa storia che è molto bella una bella iniziativa spiegala bene perché le ragazze che porto fuori spiegala bene perché poi sembra che porti fuori la ragazza a bere no allora in Cannottieri San Cristoforo è nata una collaborazione nel 2019 poi la pandemia ha incasinato un po' tutto però poi ho visto che è ripartita sì sì dopo ripartiti alla grande e questa associazione si chiama C6 Siloku un nome stranissimo C6 come se fosse la battaglia navale ma che significa tu ci sei sei presente Siloku perché è una delle fondatrici è giapponese e Siloku è il suono di C6 e vuol dire insomma che quando sei malata di cancro tendi a isolarti a essere isolata anche e invece c'è bisogno della presenza e a un certo punto C6 Siloku scopre il concetto di Dragon Boat dove si è appunto tutti sulla stessa barca perché ci sono 20 persone che pagaiono contemporaneamente su un'unica canoa e quindi ho l'onore di allenare queste ragazze che al di là del discorso che la la battaglia più importante che fanno la partita più importante che giocano è un'altra però hanno preso anche delle soddisfazioni queste ragazze hanno vinto il campionato italiano quest'anno sui 500 metri e hanno fatto il terzo posto ai campionati europei sui 200 metri quindi sono delle cose molto belle che che però ecco non sono cioè a me quella roba lì chi se ne frega la cosa bella è vedere queste donne così insieme e vedere l'insegnamento che che mi hanno dato io credo che se tutti noi ci giudicassimo come dei sani in attesa di ammalarsi avremmo tante tante il mondo sarebbe un filino migliore forse ci arrabberemmo di meno sul corso monforte e anche su tante altre cose secondo me loro mi hanno insegnato una carica pazzesca io cerco di non darle con quella che ho ma in realtà viene il rischio restituire solo una parte di quella che loro mi danno quando non sono con loro questo diciamo è il tuo più grande successo insomma è un gran successo complimenti Simone complimenti anche le ragazze lo sapevo di questa vittoria quindi complimenti complimenti anche a loro invece il tuo più grande rimpianto se ce n'è beh allora sicuramente il fatto che mio padre non sia stato più qui a vedere quello che è successo dal 2016 in avanti mi è spiaciuto lui forse aveva intravisto quello che poteva succedere anche dal punto di vista lavorativo nel 2016 non c'era sicuramente questa voglia di navigli di andare sui navigli come c'è adesso quindi anche da un punto di vista proprio di sicurezza e di tranquillità economica e poi anche di riconoscimenti non tanto di premi proprio il fatto di essere anche solo qua a parlare di essere diventato un personaggio più o meno pubblico con tutto il bene e il male che ne consegue gli hater tutte queste cose qua ma infatti il primo proprio ha aperto una bottiglia dicendo ecco il primo vai ce l'ho fatta nel futuro di Simone Lunghi cosa c'è invece? nel futuro di Simone Lunghi spero un mini Simone Lunghi non nel senso di un altro figlio ma infatti mi ero preoccupato di qualcuno che mi dia seriamente una mano a fare queste cose un'eredità vuoi lasciare? sì mi piacerebbe questo io ho già fatto un'eredità perché ho creato un'organizzazione di volontariato che sono gli angeli del bello e mi piacerebbe che qualcuno diventasse l'arcangelo sì diventasse l'arcangelo e mi desse una mano e fare queste cose poi io non voglio assolutamente lasciare però le persone che sono dentro gli angeli del bello sono validissime mi piacerebbe riuscire ad avere uno come il Simone Lunghi del 2016 che è disposto a mettere tutte le fish su quello su una scommessa del genere nel senso che non c'è una certezza economica in questo momento non solo la certezza ma la possibilità di dare uno stipendio a questa persona però i progetti che stiamo facendo gli angeli del bello sono nati dagli angeli navigli che sono partiti nel 2015 appunto è un'organizzazione di volontariato che si occupa di tenere puliti i navigli ma anche i parchi le piazze abbiamo pulito tantissimi parchi di Milano abbiamo fatto delle azioni anche di ritinteggiatura dei muri vandalizzati l'abbiamo fatti tre volte di cui uno sulla casa di Manzoni che è stata una bella battaglia anche burocratica ringraziamo ma chiaramente la sovrintendenza ma è stato difficile fare questa cosa qua adesso siamo riusciti a far nascere sei comitati i cittadini di quartiere quindi c'è Sant'Ambrogio Paolo Sarpi Bruzzano Conca dei Navigli gli angeli di Bruzzano ci sono? gli angeli dei navigli eh scusami gli angeli del bello perdonami gli angeli del bello Paolo Sarpi gli angeli del Bruzzano e abbiamo fatto il 12 ci sarà tra l'altro l'inaugurazione in Paolo Sarpi di una iuola donata con una raccolta fondi degli angeli del bello e contemporaneamente la presentazione del progetto MAP con i quali noi facciamo lavorare le persone richiedenti MAP che sono quindi messe alla prova cioè persone che hanno reati di scarso allarme sociale che chiedono di fare una specie di servizi sociali di essere messe alla prova e c'è bisogno di una struttura che possa gestire queste persone e i volontari praticamente su Paolo Sarpi il vantaggio qual è che un coordinatore quindi diciamo un volontario angelo del bello riesce a far lavorare dieci braccia perché sono cinque persone sotto di lui quindi con un po' di volontari se avessimo dieci volontari avremmo cinquanta persone che vanno in giro a sistemare iuola e quindi inizia a essere una cosa importante insomma se un posto in paradiso non l'avete ancora potete diventare un angelo e trovare un posto in paradiso quello il tuo intento era di riuscire a saltare la fila e diventare l'angelo direttamente credo che se venite agli eventi degli angeli cerchiamo sempre di gli eventi grossi non chiaramente in tutti quelli comitati riusciamo a fare questo però il motto degli angeli è difendere e diffondere il bello perché abbiamo la fortuna di avere amicizie con tanti artisti grazie sempre ai navigli e quindi ogni tanto quando abbiamo fatto non so l'evento in in sola aridezza erano venuti due comici Francesco Arienzo era venuto abbiamo fatto venire dei musicisti Tascaiali che è un musicista molto un pianista compositore molto importante abbiamo fatto tanti eventi dove chi viene al di là di avere la sensazione di essere stato utile si porta a casa una bella esperienza un bel ricordo un bel ricordo mia chiesi minanesi ringraziamo Simone Lunghi grazie a voi grazie anche soprattutto per quello che fa per questa città ok cosa c'è no sono reso conto che ho parlato del 12 va in onda prima vediamo è un podcast quindi poi chi lo ascolterà dopo ahimè vi siete persi l'appuntamento del 12 ah ok va bene ma chi lo ascolta prima ben venga ok Simone Lunghi mia chiesi minanesi alla prossima grazie